Ciao, bentornate e bentornati. Sto preparando dei video sui quesiti di maturità del liceo scientifico. Questo riguarda un quesito del 2023 e sui limiti di funzione. Se ti interessa vederne altri ti lascio in descrizione il link alla playlist. Leggiamolo insieme. Abbiamo un certo limite con due parametri, A e B. Si chiede di determinare A e B affinché il limite sia uguale a 1. Quindi non si tratta, come si chiede solitamente, di calcolare il risultato del limite, ma noi già conosciamo il risultato e dobbiamo risalire al valore dei parametri. Se vuoi provare a farlo metti in pausa, tra poco vediamo insieme lo svolgimento. Allora cominciamo. Ho riportato qua in alto il testo e per prima cosa osserviamo che si tratta di una forma 0 su 0. Infatti se mettiamo 0 al posto di x otteniamo seno di 0 che è uguale a 0 meno A per 0 più B per 0 fratto 0. Quando si hanno forme del tipo 0 su 0 e infinito su infinito si può applicare il teorema di De L'Hopital che afferma che se noi deriviamo separatamente il numeratore e il denominatore otteniamo un nuovo limite che, se ha un certo risultato, tal risultato sarà uguale al risultato del limite di partenza. A cosa serve applicare il teorema di De L'Hopital? Serve perché quando si deriva, se abbiamo un polinomio, il grado dei vari monomi diminuisce di una unità e in particolare, dato che abbiamo Bx, derivandolo otteniamo semplicemente B che è una costante e questo ci facilita nella risoluzione del limite. infatti se andiamo poi a sostituire 0 al posto di x, quindi la derivata del seno è il coseno e mettendo 0 al posto di x si ottiene 1 perché il coseno di 0 è uguale a 1. La derivata di meno Ax alla terza è meno 3ax alla seconda e sostituendo viene sempre 0, mentre la derivata di meno Bx meno B che rimane meno B. Al denominatore abbiamo 3x alla seconda che è uguale a 0. Questa non è più una forma 0 su 0, ma è una forma 1 meno B fratto 0 che in generale darà infinito perché un numero diviso 0 dà infinito, a meno che B non valga 1 perché se B vale 1 viene 1 meno 1 e siamo di nuovo alla condizione 0 su 0. Da ciò abbiamo capito che B deve proprio essere uguale a 1 perché questa è la condizione necessaria affinché il risultato sia 1, perché se B non valesse 1 il risultato sarebbe infinito e quindi non sarebbero soddisfatte le condizioni richieste. Formalmente possiamo dire che B uguale a 1 è condizione necessaria ma non sufficiente affinché il limite sia uguale a 1. Non è sufficiente perché anche A deve avere un valore ben preciso affinché quel risultato sia proprio uguale a 1. Ora, se riprendiamo il nostro limite dopo che abbiamo applicato il teorema di De L'Hôpital, mettendo 1 al posto di B, osserviamo che è di nuovo una forma 0 su 0 e quindi di nuovo possiamo applicare il teorema. La derivata di cos x è meno sin x, la derivata di meno 3 a x alla seconda è meno 6 a x e la derivata di 3 x alla seconda è 6 x. Questa è ancora una forma 0 su 0 perché è rimasta la x nel polinomio, ma se deriviamo ancora una volta questo meno 6 a x diventerà semplicemente meno 6 a, quindi andrà via la x. Quindi se lo facciamo otteniamo meno cos x, che è la derivata di meno sin x, meno 6 a fratto 6. Mettendo 0 al posto di x otteniamo meno 1 meno 6 a fratto 6. Questo è il risultato del limite in funzione del parametro A. Ora imponiamo che questo risultato sia uguale a 1 come richiesto e in pratica si tratta di risolvere l'equazione meno 1 meno 6 a fratto 6 uguale a 1, cioè A in pratica è diventato l'incognito della nostra equazione. La risolviamo con semplici passaggi, moltiplichiamo ambi membri per 6, spostiamo meno 1 al secondo membro e si ottiene meno 6 a uguale 7, da cui A uguale meno 7 sesti. In conclusione B è uguale a 1, A è uguale a meno 7 sesti. Spero che la spiegazione sia stata chiara, ti ringrazio per aver seguito fino in fondo e ci vediamo al prossimo quesito. Ciao!